Lui dirà che cosa dovete buttare, in quale dovete buttarlo e dirà cosa servirà in breve ogni uditore. Plastica. Perfetto. Perfetto. Perché la plastica cos'è? Il petrolio solidito e colorato finita plastica. Carta. Perfetto. Cos'è la carta? La carta viene usata e usata per fare certe cose. L'umido. L'umido, che cosa ci mettiamo qui dentro al contenitore del silo? L'uso di banana. Quindi lo scarto di tutto quello che usiamo? Solo lo scarto.